Iniziare una spedizione internazionale per studiare la presenza di rifiuti di plastica nel mare artico. Ad organizzarla è il Five Girls Institute, un gruppo che dai primi anni 2000 analizza l'inquinamento derivante dalla plastica. Tra i 20 partecipanti, tra ricercatori e attivisti da tutto il mondo, c'è anche un torinese che oggi ci è venuto a trovare nei nostri studi. Franco Borgogno, buonasera. Buonasera. Benvenuto. Allora, di che cosa si tratterà? Due settimane, passaggio a Nord Ovest a fare cosa? Due settimane per raccogliere i rifiuti, documentare che tipo di rifiuti si trovi in quel tratto di mare. Particolarmente importante perché è il punto di passaggio tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, quindi è ricchissimo di nutrimenti, quindi è ricchissimo di pesci di tutte le dimensioni. Ecco, quali rifiuti di plastica si trovano in queste zone? Si trova un po' di tutto, dalla sedia addirittura di plastica intera ai rifiuti microplastici e questi sono quelli più pericolosi di tutti, perché il grande pezzo di plastica, con il tempo, con la luce e con l'azione meccanica del mare, si sbriciola sempre di più ma non degrada e quindi diventa cibo per i pesci. E poi dove finisce? E finisce nel corpo, finisce nel ciclo biologico di tutti gli animali che ci sono nel mare e questa è la parte veramente pericolosa. Non è tanto una questione estetica, ma è un problema perché entra nella catena alimentare anche. Senta, lo scopo di queste due settimane di studio e analisi è anche per poi passare ad una fase operativa di pulizia, non è vero? Certamente, questo istituto californiano si occupa di questa ricerca da molti anni, ha già fatto 16 spedizioni in giro per il mondo, documenta la quantità di rifiuti che ci sono e poi fa un'azione presso gli attori economici, presso i governi, perché si mettano regole che non cancellino la plastica, ma rendano l'utilizzo, il riutilizzo e la raccolta efficaci. Ecco, vogliamo dare qualche dato sull'inquinamento della plastica che renda evidente, insomma, il pericolo? Sì, i dati sono enormi e quando li sentiamo ci rendiamo conto di cosa si tratta. Nel 2014, secondo le stime più ottimistiche, si parla di 268 mila tonnellate di plastiche presenti nei mari e 5.250 miliardi di pezzi presenti in tutti i mari. Tra l'altro, a differenza di quello che si può pensare, è presente al centro dei mari soprattutto, perché le correnti lo portano lì e quindi lo portano anche dove ci sono più pesci che poi lo mangeranno. Bene, io la ringrazio e le auguro anche buon viaggio, visto che già da domani mattina partirà alla volta di questa spedizione. Grazie.